Questo è Filippo. La sua famiglia va sempre a fare la spesa alla Coop. A Filippo piace andare nel reparto dell'ortofrutta. Si incanta a guardare tutte quelle cassette piene di colori. E alla Coop trova soprattutto i colori della nostra campagna. Infatti, l'85% della sua frutta e verdura marchio è di origine italiana. Con la linea Vivi Verde, inoltre, offre oltre 180 possibilità di scelta, tutte assolutamente biologiche. Grazie alla produzione integrata, alla Coop Filippo può trovare in ogni momento dell'anno frutta e verdura rispettosa dell'ambiente e del consumatore. Su tutta la sua ortofrutta marchio, Coop garantisce residui chimici fino al 70% inferiori a quelli previsti dalla legge. E anche dopo essere stata raccolta la frutta e la verdura Coop, non è trattata con sostanze chimiche, perché la conservazione viene effettuata unicamente con le basse temperature. Coop sorveglia tutta la filiera produttiva, per offrire ai consumatori alti livelli di sicurezza in ogni passaggio, dal campo al punto vendita. Inoltre, Coop sa che anche il gusto vuole la sua parte. Per questo, promuove iniziative come Frutta Saporita, un progetto nato in collaborazione con alcune università italiane che coinvolge i consumatori per selezionare le zone produttive più vocate e le varietà con i migliori parametri di maturazione. L'etichetta Qualità Sicura di Coop significa frutta e verdura coltivata nel rispetto dell'ambiente, senza conservanti, non OGM, sottoposta a 290.000 analisi e oltre 250 ispezioni effettuate ogni anno da agronomi esperti e da laboratori accreditati. Grazie alla completa rintracciabilità di tutta la sua frutta e verdura a marchio, Coop tutela la salute di Filippo, della sua famiglia e di tutti gli altri consumatori, offrendo nello stesso tempo convenienza e qualità. Sono queste le ragioni per cui tante famiglie, come quella di Filippo, scelgono Coop. E così, lui ha imparato che mangiando tanta frutta e verdura, si guadagna salute e si cresce bene. Grazie a tutti.